E' bella ragazzi qui e qui su voi e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online nuovamente con un video modifiche Praticamente non faccio altro che far uscire video modifiche ma va bene escono un botto di auto Poi vabbè nel mezzo ci sono state le feste e robe così quinti abbiamo perso del tempo E tra l'altro sta auto dove? Su Warstock? E' su Warstock Ma comunque sia questo ha poca importanza perché oggi andremo a modificare la JB700V Cos'è la JB700V? E' sostanzialmente l'auto di James Bond Però a differenza della JB700 che già abbiamo sul gioco questa qui dovrebbe anche poter sparare Quindi quelle mitragliette dovrebbero essere anche utilizzabili anziché essere inutili solamente per estetica Difatti il prezzo di quest'auto è molto più alto perché stiamo parlando di 1.470.000 dollari Ma noi andiamo a leggere la descrizione del veicolo Comincia pure a oliarti la leva del cambio perché questa bellezza ha tutte le curve al posto giusto Classica Gran Turismo di lusso, la JB700V è l'auto perfetta delle spie britanniche Alcolizzate e misogine sin dal 1965 Rispolvera lo smoking, fai una battuta a doppio senso Versati l'ultimo Martini ed esci dalla stanza barcollando mentre tutti parlano sottovoce di quanto sei stronzo Nota, le classiche armi nascoste del veicolo possono essere reinstallate a scopo ricreativo allo Santos Custom Acquistiamola, facciamocela mantare qui, non ho ben capito cosa devo fare allo Santos Custom Ah forse ho capito, allo Santos Custom posso mettere le armi finte? C'ho quelle vere perché devo mettere quelle finte? Io non lo so, vabbè Quindi ragazzi mi raccomando superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video di questo tipo Dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli su GTA Online Mi raccomando controllate che l'ex è andato, cliccatelo per venire, oltre condividete il suo video, se lo fate siete integranti E visto che adesso non c'è più lo schermo nero, pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione E ok ragazzi ecco qui la nostra JB700 Guarda qui che bella che è, le armi non ci sono Mi sa che le devo pagare, altro che è, comunque sia estetica classica La conosciamo già la JB700, se andiamo a bordo ascoltiamo il sound Comunque sia il suo, perché andiamo a modificarla immediatamente Allora le armature io direi che su quest'auto le possiamo anche mettere Freni li mettiamo al massimo, motori li mettiamo al massimo Claxon lasciamo quello standard Luci, fari allo xeno Kit neon, schema neon al massimo e poi mettiamo anche il colore Ok va bene Targa personalizzata assolutissimamente Verniciature, colore principale qui quasi quasi Io la butterei su un colore comunque sia scuro Oppure tipo un argento, non lo so Più tipo colore di questo no? Acciaio laminato, ci potrebbe stare Difatti è proprio ciò che farò Argento mezzanotte E abbiamo solamente il colore principale Va bene, armi Ah vedi a chiodi Antitenuta Come armi secondarie A chiodi credo sia la striscia chiodata Che praticamente buca le gomme Ma meglio antitenuta Perché ad oggi su GTA Online Quasi tutti hanno le gomme antiproiettile Quinti si Sospensioni Uh Ok Va bene Non mettiamola così bassa Ma mettiamo magari delle sportive Ok Trasmissioni al massimo Turbo Lo mettiamo pure Armi Mitragliatrici Eccole qua 109.000 dollari Per delle mitragliatrici Mettiamole Ruote Tipi di ruote Cosa che abbiamo? Vabbè lasciamo queste qui Oppure mettiamo delle low rider No? Tipo Ecco guarda Forse questa qui che è uguale Sì mettiamo questa qui Che è praticamente uguale La metto solamente Per andare a mettere Praticamente Uno Il colore dei cerchi Argento pietra Così si abbina all'auto E due Per mettere come design pneumatici La linea bianca Ovviamente Le gomme antiproiettile Che fanno Le mettiamo E poi il fumo Lo lasciamo bianco Va bene Finestrini Limousine Ovviamente Abbiamo già finito Con le modifiche ragazzi Il neon Lo lasciamo bianco Praticamente Allora le modifiche Sono state molto rapide Mi aspettavo qualcosina in più Ma va bene così Usciamo Andiamo a provarla Sicuramente sarà A livello di prestazioni Molto E Sarà interessante Ma saranno ancora più interessanti Le armi Che ha a bordo Ma comunque si ragazzi Qui c'è la nostra JB700V Bella Che è modificata Colore abbastanza Mimetico Per nascondersi Nella notte Nell'oscurità D'altronde siamo James Bond No dobbiamo muoverci In maniera molto cauta L'auto È molto bella Se non mi sbaglio È un Aston Martin Quindi bene Saliamo a bordo E ascoltiamo il sound Di nuovo Bello Peccato che non Scoppietta ragazzi Sarebbe stato Ancora meglio Ma let's go Partiamo Che con L1 Si spara Come potete ben vedere Con la mitraglietta Adesso vediamo un attimino Quanto danno fa Questa mitraglietta Poi Con il clacson Faccio qualcosa Allora Corro un bel po' Ok Ho piazzato una mina Aspetta un attimo Allora Cioè scusami Ho piazzato una mina Voglio vedere cosa fa Mi serve un'auto Davanti Cioè dietro Voglio dire Ovviamente la fortuna che ho È notte Le auto qui Non girano Oppure si fermano I semafori rossi Sto tizio con la moto Vediamo che fa Anzi questo qui con la foto Io gli sgancio qui La mina Vediamo che succede Dovrebbe essere Antitenuta Quindi Ah vedi Butta dell'olio E drifta Ragazzi Buttate l'olio E drifta Vedi che si accumula Qui lo schifo Eh beh Scivola un bel po' Oh raga È utile questa roba È molto Ma molto utile Metti caso fate una missione Tipo Recupero auto Ci andate con la JB700 Piazzate l'olio Ci passano sopra E vanno via E voi vi fregate l'auto Ok va bene Su questo ci siamo Spara Sgancia lo schifo Lì Quindi a posto Adesso vediamo A livello di prestazioni Come va Comunque sia Secondo me Corre un bel po' St'auto Vi ricordo che ha anche Una sportiva classica Oh raga Va Sicuramente non è L'auto più lenta di GTA Ecco Oh onesta Ci sta Secondo me Va più che bene Quindi test della frenata In 3 2 1 E Aspetta un attimo Che mi sono fatto una macchina 3 2 1 E via I freni Beh Non sono proprio il massimo Ecco C'è decisamente di meglio A dirla tutta Dovrebbe essere una posteriore Quindi si 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 vede già da qui Che è una posteriore Altrimenti Bene Teste della tenuta Invece signori Come va Tiene bene E anche il controllo Non sembra Essere male Poi guarda Puoi fare cerchi Puoi fare Ottimo direi E allora Beh Curva ad alta velocità Sia no Si mette di traverso Ma la curva Te la fa Si si guarda Guarda quanta si mette Di traverso Nah Maledetto Paletto di legno Che rovini Sogni Però le curve ad alta velocità Puoi farle Effettivamente Cioè ti metti di traverso Perdi tutta la velocità Però Dai Le fai Beh allora Secondo me Non è il top A livello di sterzata Ma va bene Così Ci può stare Per l'auto Che è Mentre Per quanto riguarda Il drift Come siamo messi Mi sa che per drift Qui Raga ho provato A fare un po' di drift Ma Nulla di eccezionale Ecco Le chiude tutte Praticamente Un pochettino Di lato E questo rallenta Cioè guarda Adesso che parlo Però le fa bene Vediamo entro Quanto tempo Distrugge un'auto Qualsiasi Fuoco Esplosione Facciamo che la distrugge In secondi Va bene Circa 4 secondi E un'auto Qualsiasi Ve la distrugge Bene ok Magari Non è l'auto Migliore di GTA Però è carina È l'auto di James Bond C'ha le mitragliette C'è il fatto che Puoi fare Svantare le altre auto Per me ci sta Prezzo un po' troppo elevato Se avete soldi Da buttare Compratela Altrimenti Se volete un fake Con l'armato Non comprate La JB700V Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi svere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo acquistato E modificato La JB700V Laston Martin Di James Bond Quindi mi raccomando Superiamo assolutissimamente I 300 like Se volete altri video Di questo tipo Dove andiamo ad acquistare E modificare Veicoli su GTA online Mi raccomando Controllate Che l'hai sentato Cliccatelo Per il 3 Conti video Quindi se volete Passare dal mio video Siamo in tutto Bella raga Ciao Ciao Grazie a tutti.